Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo rosa con una combinazione avvincente di intrighi familiari, conflitti interiori e relazioni complesse, invitando i lettori a riflettere sulle apparenze e sulle sorprese che la vita può riservare. La trama del libro Love Sick della scrittrice Sophie Simonitti, casa editrice Blueberry, è la seguente. Può una scommessa cambiarti la vita? Christine è da poco giunta a New York quando, durante una serata con le amiche, incrocia lo sguardo dell'affascinante e solitario Simon. Fra i due scocca subito la scintilla e, complice una scommessa e un'intesa senza uguali, trascorrono un'indimenticabile notte di passione. Peccato che Simon sia il fratellastro di Rick, il capo di Christine, ed è appena tornato in città per bendicarsi di quella famiglia che lo ha sempre fatto sentire un eterno secondo. Problema 1. Simon e Rick si odiano. Problema 2. Christine ha una cotta per Rick. Problema 3. Christine non riesce a smettere di pensare a Simon, il fratello sbagliato. Fra corse al potere per prendere le redini della rivista di famiglia e passati tormentati, Simon e Christine avranno modo di conoscersi e capire che le apparenze non sono tutto e che, a volte, la vita non è sempre quella che pianifichiamo. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.